bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità per quello che riguarda fortnite anche nel video news di oggi mamma mia che fotografie sono state recuperate ragazzi parleremo ovviamente dell'evento ancora di questa stagione vedremo delle informazioni nuovi tornei in arrivo e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news e allora siamo pronti andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi molto fast attenzione ragazzi perché manca sempre meno all'evento della season 2 l'evento conclusivo di questa stagione che ci porterà veramente a un tiro di schioppo dalla season 3 perché ancora non se lo ricordasse sarà questo sabato alle ore 20 location da tenere sotto controllo ovviamente l'agenzia ci sono un sacco di timer in giro quello c'è il lobby quello che vedete qua nella stanza di mida quindi mi raccomando attenzione all'evento vi aspetto ovviamente insieme per viverlo e capire quello che succederà ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è sulla bocca di tutti va menzionato ieri intorno alle 10 del mattino lo shop senza nessun annuncio senza anticipazioni si modifica e torna dopo 927 giorni la skin che da più tempo mancava sullo shop di fortnite mi riferisco ovviamente alla recon expert pensavamo fosse un bug pensavamo che avessero fatto un errore invece era tutto programmato ce lo dice direttamente fortnite con un tweet ufficiale che dice after winning top stars in bot camp recon expert is back e la cosa un pochettino triste per chi ce l'aveva purtroppo è che lo stile che viene aggiunto quindi la stessa skin con il capello e senza viene dato a tutti non ci sarà più nessuna differenza tra chi l'aveva shoppata in season 1 e chi l'ha shoppata ieri voglio di nuovo ringraziare tutti i ragazzi che l'hanno acquistata con il mio codice una skin che purtroppo perde la sua rarità e diventa totalmente comune e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi è un video ragazzi perché intanto vi ricordo che c'è un nuovo pack delle icon series che sta per arrivare su fortnite ve ne avevo già parlato è il pack di loser fruit quindi la youtuber ormai con un paio di milioni di iscritti lei stessa ci annuncia che arriverà nei prossimi giorni e qui vediamo è proprio uno spezzone della skin in questione con tanto di emot davvero molto simpatico il fatto che annaffi una fragolina che viene fuori dal nulla non abbiamo ancora ben chiaro il giorno in cui uscirà ma si parla veramente prima probabilmente della season 3 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi mi rivolgo a tutti voi che create video su youtube ragazzi attenzione perché se dovesse uscire la nuova emote quella dedicata a drake lo vedete perché il balletto delle icon series non pubblicatela nei vostri video ragazzi il background musicale è totalmente sotto copyright e quindi rischiate anzi è certa la demonetizzazione del video quindi vi invito a togliere il suono se dovete farci un video non caricatela ovviamente con l'audio originale perché purtroppo non sono stati dati i diritti e quindi vi viene appunto demonetizzato il video e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché lo dice lui stesso ragazzi il signor tyler il ningione ragazzi che dice sono molto eccitato per annunciare le ninja battles un torneo su invito che sarà composto da 6 eventi tra maggio e luglio ogni evento avrà 80 mila dollari di montepremi per un totale di quasi mezzo milione di dollari e comincia proprio oggi dovrebbe essere alle 3 del pomeriggio per noi 3 pm eastern time se non ricordo male ma date un'occhiata col fuso orario perché potrei tranquillamente sbagliarmi ovviamente trovate tutto l'evento streamato su mixer proprio nel suo canale ovviamente ufficiale ed ecco qua la copertina tanta tanta roba ragazzi dove ci sono ovviamente i più grandi campioni del mondo ma è anche su invito quindi aspettiamoci anche degli ospiti davvero interessanti credo che si giocherà in singolo anche se non viene specificato dovrebbero essere partite normali e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché attenzione che si entra un po nella roba ai 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 ragazzi ve la ricordate la schermata di caricamento che ha interno che ha al suo interno questa immagine dovrebbe essere se non ricordo male quella dove c'è mi ascolora la schermata completa non me la riesco a ricordare al 100% ma a noi interessa questa porzione perché in questa porzione è praticamente un po spoileracchiato l'evento di questa season come vedete se ci soffermiamo a notare un attimo il punto più o meno centrale rispetto ai tre angoli si vede appunto l'agenzia e ci sono tre punti fondamentali la in alto parco pacifico a destra credo che si voglia segnare moli molesti e in basso lì sotto io non credo che vogliano segnare brughiere però siamo più o meno lì ma quello che ci interessa è il fulcro dove appunto tutto accadrà all'agenzia e attenzione attenzione perché questa immagine è davvero molto interessante voglio farvi vedere questa immagine che viene presa direttamente dal cerchio della tempesta della ltm che dovremmo a cui dovremmo accedere per vedere appunto l'evento oramai è consuetudine creare delle ltm a parte in modo che non ci possano essere spiacevoli inconvenienti tra i giocatori quindi uno killa un altro e roba del genere dovremmo entrare la si chiamerà the agency la ltm l'avevo detto un paio di giorni fa non me la ricordo al 100% ma potrebbe essere preso da quello che succederà anche borgo bislacco salti spring in poche parole staremo a vedere tra l'altro voglio ricordarvi nuovamente che in questi giorni vedete che i cerchi della tempesta sono nettamente diversi ma non è un bug è una cosa voluta ed è di peso tutto dal doomsday device quindi dalla macchina che oramai è attiva a cannone e che ha il potere di controllare la tempesta e adesso attenzione bene ragazzi perché le immagini che stanno per arrivare sono davvero forti e riguardano ovviamente qualcosa dell'evento io invito tutti quelli che non vogliono vedere a non guardare ovviamente ma è un argomento che abbiamo già trattato quindi non dovete assolutamente preoccuparvi sappiamo con delle immagini che abbiamo già visto che succederà qualcosa all'agenzia sì perché abbiamo già visto l'immagine della nuova agenzia e beh ragazzi e allora ecco qua le immagini di ciò che accadrà agenzia completamente distrutta ragazzi quindi in qualche modo ma era già scontato lo abbiamo già capito non andrà bene l'evento non andrà bene il doomsday e lasciate perdere parco pacifico che c'è intorno focussatevi solamente sulla struttura principale dell'agenzia come vedete anche in quest'altra serie di immagini non ci sarà praticamente più niente completamente di velta l'agenzia sappiamo però e abbiamo già visto le immagini della nuova struttura che sostituirà quella a cui siamo abituati appunto ad entrare a cercare di prendere maggior loot possibile tra cui la thompson di mida devo dire che è veramente sarà uno scoppio fragoroso e interessante perché distruggere una struttura grande quanto all'agenzia beh porca vacca porca se mi sfruttano bene il chaos engine per fare l'effetto dell'esplosione io credo che ci dobbiamo aspettare davvero tantissima roba insomma ragazzi anche per oggi tutte le informazioni tutte le news di fortnite io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao